Allora buongiorno a tutti, mi trovo in Umbria dove sto girando Dante e purtroppo non potrò questa sera essere con voi come avevo più e più volte promesso e lo dico con grande ramarico perché il premio Sergio Amidei è uno dei premi più ambiti della mia carriera. Tra l'altro ho conosciuto questo straordinario sceneggiatore anni fa a casa di Ugo Tognatti e trascorremo una sera fantastica. Quindi la promessa è quella di venire a Gorizia sicuramente entro l'ottobre prossimo se Dio vorrà a salutarvi e ringraziarvi e abbracciarvi tutti. Per adesso vi auguro non vi delude il mio film e vi auguro continuate ad apprezzare il nostro lavoro. Vi abbraccio tutti molto forte e ci vediamo ad ottobre. Arrivederci.